Sulla tassa di soggiorno non c'è ancora accordo ma venerdì scorso un mezzo accordo era stato comunque trovato? Sì, c'è stata la condivisione su un ragionamento che è il seguente. Noi non siamo contro l'introduzione della tassa di soggiorno come pregiudizio ma riteniamo che sia doveroso da parte del Comune riversare il beneficio economico derivante a questa tassa sulle attività dei pescaresi. La proposta che abbiamo fatto praticamente si sostanzia in che cosa? Nella possibilità di abbassare l'occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali dei pescaresi. Quindi un vantaggio immediato e certo per coloro i quali vivono, operano, danno lavoro in questa città. In via di massima anche la maggioranza di centro-sinistra ha condiviso queste impostazioni adesso si tratta di comprendere se una volta che proviamo a calare i numeri l'intesa reggerà. Noi riteniamo che questa tassa di soggiorno sia una scorciatoia amministrativa cioè il modo più semplice di amministrare è chiedere soldi alla città. Però se loro vogliono metterla, quindi istituirla, noi imponiamo dei vincoli. Chiediamo che queste risorse vengano utilizzate per il piano marketing, per quello che viene effettuato e richiesto nel piano marketing. Che questo piano sia comunque condiviso con le parti politiche, con i residenti, con tutti gli stakeholder portatori di interesse, attraverso un tavolo che dovrà riunirsi una volta al mese e chiediamo che venga vincolato e blindato all'utilizzo dello sviluppo della città. Questa è un'imposta che permette a coloro che non sono pescaresi, che non sono cittadini, di contribuire al funzionamento della città. Se nel confronto con le opposizioni è possibile venire a un testo che funzioni meglio, che sia più organico o che abbia un consenso maggiore, anche perdere qualche ora di tempo, non impiegare più che perdere qualche ora di tempo, non è un problema.